La sua provocazione non è passata inosservata e devono aver colpito nel segno anche le tante letterine indirizzate dai piccoli alunni al sindaco e al presidente del consiglio. Così ora, dopo le denunce della preside Maria Giovanna Granata, il governo nazionale scende in campo per la scuola Cide dei Gasperi di Palermo. Finita da tempo nel mirino dei Vandali, con dieci raid subiti in sei mesi e continuamente alle prese con furti e danneggiamenti, e senza che alle denunce e alle richieste di più strumenti per la sicurezza siano arrivate risposte. A raccogliere l'appello della preside ora è il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che ieri ha telefonato alla dirigente scolastica. La Giannini venerdì sarà a Palermo e non è escluso che visiti la scuola. L'ultima incursione qui risale a domenica, quando i Vandali si sono introdotti nel plesso rubando lavagne luminose e distruggendo armadi e arredi. Il videoproiettore di una lavagna multimediale con i cavi elettrici e le casse acustiche, però ne avevano portate via altri due. Quindi già le classi quinte sono quasi prive di lavagna multimediale, che è uno strumento che utilizzano normalmente nella didattica. Ma non solo, hanno portato via anche delle chitarre, computers, eccetera. Hanno fatto dei danni, danni notevoli a tutti gli arredi. Per domani è in programma una grande catena umana che coinvolgerà maestre, alunni e famiglie e cingerà l'intero plesso scolastico in un ideale cordone di protezione, in attesa, magari, delle telecamere di videosorveglianza.